Musica sulle bocche La musica di grande qualità c'è da 11 anni perché questa è l'undicesima edizione Tra l'altro quest'anno ci stiamo spostando anche invece del palco centrale della piazza Stiamo usando vari spazi tra cui questo che è la piazza Santa Lucia Con questa candida chiesa mediterranea dove ci saranno tantissimi concerti Il programma lo leggete su www.musicasulebocche.it Vi posso solamente dire che sarà una straordinaria festa Per cui ognuno di voi cerchi di venire Quest'anno il festival è dedicato a affari, rotte, pirati, esploratori È un tema che abbiamo messo dopo che il cartellone è stato fatto Sai, come un autore di un libro che scrive un libro e dopo averlo riletto Dice che questo libro si potrà chiamare così Magari è una cosa bella, invece di dare un tema all'inizio lo si può dare alla fine Perché poi alla fine anche quando io scrivo un brano musicale Lo scrivo e il titolo lo metto alla fine e non all'inizio Grazie a tutti